bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video se qualcuno mi sta sentendo chiedo scusa ma sto provando aspetta aspetta mi sentite però se voi mi sentite io non vedo quindi magari così mi sentite ugualmente allora ci sono cinque persone che come cacchio si vede male allora no aspetta un attimo la campanella sembrano le mucche quelle di haidi sembrano ci vedete ragazzi ci vedete ci sentite no perché qua salta la connessione e porca lurida io divento sì no perché io divento una bestia quando parte la connessione una una bestia infermabile divento e lo sapete che qua xyudra non scherza niente non ve lo ricordo neanche ragazzi ma ve lo dico un bel pollicione in su se vi piace il quarto episodio di warioland 2 ragazzi spollicciate dice la pami che ha imparato gli slang da youtuber oramai c'è poco da fare brutta situa porca la sorca la porca spendere soldi per perdere molto good molto good nick molto good porca maiala tra pami a tapparmi ragazzi subito così super cattiva allora aspetta fammi sistemare qua e dopo ragazzi dopo dopo ora scusate mi fermo un secondino pausa torta ma che bella ma che bella non ti scappa la cacca ma per evita di se scappa la cacca se lo deve chiedere perché sai uno controlla dietro dicendo tutto pulito molto bene allora come si dice quindi andiamo di qua allora o ma va a fare un quadro ma va a fare un quadro dai dai ma che ma che nabbo ma che nabbo bella tutti ragazzi io sono xuder e oggi ragazzi come vedete alle mie spalle stiamo giocando a uno dei giochi più hot che stanno girando in questi giorni ragazzi su ps4 e su computer sto parlando ovviamente di fort night ragazzi guarda guarda c'è anche un forziere perché non posso aprire il forziere hai già aperto è già aperto non capisco se c'è qualcuno sul tetto ora c'è una cassa quindi bisogna assolutamente trovarla questa cassa perché stai prendendo a una parete a picconate dov'è la cassa non capisco dov'è no 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 la cassa il cespuglio il cespuglio il cespuglio abbiamo trovato il cespuglio aspetta no sta succedendo un casino bruttissimo scappa da qua da qua xuder no no xuder te ne devi andare non puoi morire così xuder no 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 dall'altra parte stupido idiota ce la posso fare ragazzi ce la posso fare non ce la faccio usa le bende usa le bende usa le bende no no si corri 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 si ce la posso fare gennaro adesso leggo scusami 21 19 17 15 13 non ce la faccio usa le bende usa le bende usa le bende no no si usa ancora usa ancora sbrigati 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 no non ci posso credere sbrigati corri 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 no no 15 13 11 9 7 5 3 1 no Non ci credo Fuga 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 Aspetta 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 zio Spara zio Ma porca non mi ricordo più come si spara Aspetta non mi ricordo più come si spara Ma porca di Quella Di quella Dai 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 Cos'è successo Io lascerai indietro Dai che andiamo A parte l'ignoranza A parte lì Vediamo se riusciamo Ok è un altro cesto Non me lo toglie nessuno ragazzi Bene così Arriva così ragazzi Arriva il mega cespuglione Attenzione di prepotenza Così allora dammi subito il cespuglione Proprio subito me lo devi dare il cespuglione Guardalo là Allora dammi il cespuglione Usalo Gli apro Aspetta un attimo che ce la facciamo così Cattiva Col cespuglio ragazzi Bene così si vede nulla Col cespuglio Non si vede nulla Ma è meraviglioso Sono un cespuglio Sono un cespuglio ragazzi Nessuno può fermarmi No one can't stop me Ti ri 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 Ti ri 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 Can't stop me Ti ri 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 Can't stop me Ti ri 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 Bravo però Molto bravo lui Molto bravo Molto bravo In questo frangente Corpo bagato Ma si era bagato Ma si era incastrato Ma dai Ma si era incastrato Questo era mio Questo era mio Va bene dai Me la son chiamata Devi avere pazienza Mico mio Perché si toccano Tasti molto molto Delicati del canale Money talks Here comes the money 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 Gialla gialla yo Gialla gialla Cin cin Bling bling So che gialla E si che fanno dei mani E dei pochi son gialla Bling bling Can't stop Tengo gli scildini Perché ci sta Perché ci sta ragazzi Dai che andiamo ragazzi Dai che andiamo 18.500 Grandi raga Grandi 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 E me fai tanti schifo 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 Non fai non pochi schifo Papagallo 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 Se non fai tanti schifo Non fai non pochi schifo Me fai tanti schifo Me fai tanti schifo andiamo soli davanti con rocket dove grazie siamo pronti raga andiamo siamo invisibili siamo potutamente invisibili ragazzi non ci possono sgamare faccelo vedere o o o o piano 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 100.000 iscritti dai tirano via te il foglio io l'ho letto tiro via te guardalo io ancora guardato è come presenti tussure for passi in 100.000 e ovviamente ragazzi la parmi parte fondamentale anche lei del canale questo è ovviamente metà mio e metà suo ragazzi vediamo se lo riescono a vedere eccolo qua ragazzi stupendo mi sa che ho sparato sull'albero al posto che sparare in testi in terra ho sparato ho sparato sull'albero invece che pensavo pensavo che non prendesse l'albero vorremmo riuscire ad arrivarci ande così raga ande così andiamo a fare questo grattaggio di punti nice nice andiamo a grattarli questi punti secondo me sta arrivando gente da dietro andiamo e il gemi tights te rispondo ancora che vai cambia l'attacco che siamo arrivati alla settima con eme siamo come quella bibita energetica c'avessi i capelli c'avrei una tipa che mi pettina se giro questa le che mimo le sta frate più pisci in testa a chi ci contesta queste tipa perfette sono la ricompensa la bocca si muove da sole va tipo tesla ma ora gli esce loro sono su da lui guardiamo dalla sua visuale ne blocca due comincia a mettere Le trappole ovunque! SPRO-HO-HO-HO-ONK! SPRO-HO-HO-HO-HO-HO- comprarci! Non ci credo! Non ci credo! LOL no vabbè dai no vabbè meraviglioso non avrà i miei muri non avrà i miei muri si e andiamo a vincerla e andiamo a vincerla una super challenge è palese che qualcosa la c'è porcaccia la porcaccia ed è proprio qualcosa relativo a Scott Travis sto scendendo sto scendendo fermi 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 non aprite il paracadute pioggia di banane livello 350 let's go siamo i primi in Italia ad avercela fatta ancora una volta let's go non vedi più cosa accadda ho sbagliato tutto è pacco di assi sta vagando tantissimo top 5 top 5 l'applauso l'ho presa top 4 top 5 top 5 top 6 top 5 l'ho presa l'ho presa è ho eguagliato il record 16 kill ho eguagliato il record let's go ah c'è qualcosa c'è qualcosa signori è una sciarpa con i loghi ricamati di twitch Ma perché non builda? Ma che c***o fa? Io ho un sacco di patate, incredibile No, non si può fare la Skype Gli ho anche affidato tutte le mie risorse Ho detto dai, ce la farà Ma cosa c***o fa? Ma devi inquadrare il terreno C'è buildato solo il gioco Ero al massimo La rifacciamo, ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo, venga Vabbè, me lo lascio un attimo Tu parli con loro Ma tu mi devi fare la verità Sì, mi come mi parla il figlio di m***a Cosa ridetti? Madonna, ma ti spacca la musica qua Non capisco un c***o Mamma mia ragazzi Che brividi rivedere tutte queste clip Quante ore passate qui con voi Quanti sacrifici Quante cose che sono accadute in tutti questi anni Ma ne è valsa la pena 500 mila Mezzo milione di iscritti Io non posso che ringraziarvi Grazie La mia family Thank you ragazzi Vi voglio bene Ricordatevelo sempre E vi do un consiglio Se ci credete Ce la farete Anche voi Da e